Ciao ragazzi, eccoci arrivato al momento dei promossi e bocciati di giugno siamo a fine mese e quindi insomma l'appuntamento lo sapete che ormai è quello l'ultimo video del mese è quello con i promossi e bocciati mi impegno tutto il mese per capire quali sono i preferiti i promossi e bocciati del periodo e riesco più o meno sempre a tirare fuori qualcosa allora intanto ovviamente ragazzi, ovviamente qui cominciano le notifiche ovviamente tra i promossi di questo periodo non potevano non esserci gli illuminanti e il blush di Nabla ragazzi, cioè non potete capire cioè se li avete comprati in realtà capite perché sono meravigliosi io ho preso solo un blush e un illuminante non ho preso le terre perché comunque non sono una grande fan delle terre allora io li ho presi nelle confezioni perché c'erano le spese in offerta con tipo 19 euro ma se li avessi presi in cialda non avrei avuto le spese così basse quindi avrei speso comunque di più anche se costavano meno e quindi comunque li ho presi così perché questi comunque ho detto ma magari mi fanno comodo se li voglio portare in giro da soli senza dover portare una palette intera poi sono carinissime le confezioni quella più chiara è del blush e quella più scura è dell'illuminante io però li ho trasferiti immediatamente nella mia palette quella che vi avevo fatto vedere l'altro mese quella personalizzata insomma non mi riesce più a chiudere la scatolina li ho trasferiti qui dentro perché comunque mi fa comodo averli sempre in bagno a portata di mano ho preso come illuminante angel come blush impulse non mi ricordavo questo è l'illuminante e questo è il blush allora l'illuminante ce lo vedete lo vedete già dalla fotocamera perché io lo vedo dall'anteprima questo è l'illuminante è meraviglioso ragazzi è bellissimo cioè io ero innamorata dell'illuminante di di Mulac niente a confronto vi avevo promosso cioè è bellissimo però ragazzi niente a confronto con l'illuminante di Nabla bellissimo io ve lo faccio cioè ve lo faccio anche vedere però questo è l'illuminante di Nabla guardate che meraviglia questa è la differenza con l'illuminante di Mulac che comunque è bello ma niente a che vedere cioè ragazzi è quello di Nabla è 10.000 volte più bello guardate che bello effetto luminoso che fa fresco luminoso bellissimo ragazzi è bellissimo mi piace un sacco rispetto al rispetto al blush è un pochino più polveroso infatti la cialdina è già abbastanza consumata perché lo uso praticamente ogni volta che mi trucco lo metto sempre sempre perché mi piace tanto cioè guardate ragazzi è troppo bello cioè non riesco a non guardarlo è bellissimo è molto più polveroso rispetto alla al blush però io lo metto col pennello nonostante sia così polveroso prelevandolo poi si fissa perfettamente e non viaggia non è che ve lo ritrovate da tutte le parti è polveroso qua quando lo prelevate ma poi quando lo mettete si attacca e non si muove più ve lo assicuro sta lì tutto il giorno ma veramente ore questo è il blush in Puzzi ho preso questo perché mi piaceva un bel colore forte e non vi fate spaventare dal colore perché comunque è quello che ho su oggi è abbastanza modulabile e quindi insomma non vi fate spaventare ve lo faccio vedere questo è il colore quanto è carico quando lo prelevate e poi però quando lo andate a stendere vedete comunque guardate vedete come si sfuma facilmente è veramente bellissimo io lo amo anche questo veramente lo amo e che dire io credo che al momento di illuminanti credo che non ne prenderò altre perché questo mi piace tantissimo vorrei provare però qualche altra tonalità di blush perché sono davvero davvero fantastici quindi quando avrò l'occasione magari un altro blushettino anche se non ne ho assolutamente bisogno magari lo prenderò io comunque ve li consiglio ragazzi perché sono fantastici e vi strasuper consiglio l'illuminante che è veramente fantastico fantastico poi un altro prodotto che mi è piaciuto un sacco è di Kiko ed è uno dei nuovi rossetti Velvet Passion Matte Lipstick Rouge à l'Evre un nome più lungo lo vogliamo trovare io ho appreso il numero 316 che mi piaceva un sacco eccolo qua non mi ricordo se è tipo rosa antico non mi ricordo il dove ve lo faccio vedere ve lo faccio vedere qui è veramente bellissimo questo è il colore ed è sono quei colori che io amo quei nude rosati che a me piacciono tantissimo me lo metto spessissimo soprattutto di giorno perché comunque è è un colore portabilissimo sempre e nonostante sia matte è molto velutato e molto confortevole io anche di questi ne vorrei prendere qualcun altro magari uno un pochino più scuro sicuramente c'è anche un colore cioccolato bellissimo sapete che io amo il colore cioccolato e quindi ci sto facendo un pensierino su quel colore cioccolato e al momento è soltanto questo ma mi piace tantissimo veramente ragazzi ottimo ottimo rossetto dura anche abbastanza devo essere sincera anche la durata non è male per niente quindi insomma lo ricomprerò costa meno di 10 euro ed è un ottimo un ottimo prodotto un altro prodotto che voglio promuovere è quest'acqua termale l'acqua di Recole credo che si dica così non lo so non mi uccidete se non si dice così quest'acqua termale io l'ho presa è di Fresmond l'ho presa notifiche come se non ci fosse un domani l'ho presa da Tigotà perché avevo finito la mia di Avene e ne volevo provare una nuova e questa è fantastica perché ha uno spruzzo cioè nebulizza tantissimo quindi comunque vi arriva uno spruzzo leggerissimo che però vi rinfresca tantissimo il trucco io lo uso appunto per rinfrescarmi lo uso per fissare il trucco delle volte lo uso la sera quando mi lavo il viso al posto del tonico insomma ha un sacco di usi poi è ottima perché praticamente l'acqua termale che è all'interno non va mai a contatto con la parte metallica perché praticamente è contenuta dentro un sacchettino di plastica e quindi non ha rischi di contaminazione con il metallo eccetera quindi insomma è ottima e poi veramente fa uno spruzzo nebulizzato fantastico ora voi non vedrete mai niente no non dovrete mai è acqua cosa pretendiamo che si veda però è veramente fantastico nebulizza tantissimo quindi non è che anche se ve la spruzzate in faccia vi rinfresca però non è che vi cola l'acqua da tutte le parti perché nebulizza tantissimo e quindi io se volete provare un'acqua termale ve la consiglio vivamente costicchia però insomma ne vale la pena perché comunque nebulizzando così tanto non la sprecate cioè non è che ne dovete utilizzare tantissima sono 150 ml ma credo che ci si faccia un bel po' di tempo insomma l'ultimo prodotto che vi mostro per questo mese è ovviamente la maschera per capelli la nuova maschera per capelli di Alchemilla io come vi avevo fatto vedere ho quella lucidante al mirtillo allora il profumo è ottimo vi fa i capelli morbidissimi quando io mi sono lavata i capelli il mio ragazzo me li ha toccati e mi ha detto da non intenditore mi ha detto che li avevo più morbidi del solito e li avevo utilizzato da da avevo utilizzato lei l'unica cosa che ho notato è che rispetto a quando uso soltanto il balsamo me li ha leggermente appesantiti non i primi giorni ma io di solito li lavo una volta alla settimana più o meno i capelli e diciamo che se uso la maschera credo di dover lavare tipo dopo 5-6 giorni perché comunque un pochino me li ha appesantiti però non inizialmente sugli ultimi giorni un pochino li sentivo più pesanti ma a parte questo l'effetto ragazzi i capelli morbidissimi io ho già i capelli abbastanza lucidi perché comunque uso l'olio di semi di lino uso vari prodotti quindi non ho notato un effetto lucidante in più rispetto a quello che ho di solito ma la morbidezza incredibile una morbidezza incredibile infatti voglio provare anche quella alla fragola prima fragola e panna prima o poi anche se non ho i capelli secchi e sfibrati vorrei provarla magari in quantità minori perché credo che sia molto più corposa essendo per capelli secchi però voglio provarla anche perché mi hanno detto che ha un profumo sublime e io non cioè io adoro le cose alla fragola lo sapete ve lo dico sempre adoro le cose a forma di fragola e che sanno di fragola ci mi piacciono tantissimo e quindi insomma prima o poi la voglio provare anche quella magari quando farò un ordine ci scapperà anche una maschera vanna e fragola e quindi insomma questa promossa con una piccola riserva nel senso che fa il suo lavoro ma almeno il mio capello lo appesantisce leggermente ragazzi ma leggermente però io ve la straconsiglio perché è veramente ottimo vi fa i capelli cioè morbidi come la seta veramente fantastica e niente questi erano tutti i prodotti vi ricordo di aggiungermi su Snapchat sono erena dreamer tutta attaccato se me lo ricordo vi metto anche il simbolino da qualche parte qua e niente questi sono tutti i miei prodotti preferiti promossi e bocciati del periodo fatemi sapere quali sono i vostri promossi e bocciati vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi ciao ragazzi eccoci tornate al solito appuntamento con Tiger allora questo mese rimane più stupita dalle poche cose che ho preso ci sono anche notate due volte la prima volta sono uscita senza niente perché come vedete dal sacchetto ci sono i fenicotteri ci sono i piattini le tazzine i bicchieri quelli col coperchio ma io ho già mille bicchieri col coperchio i piattini e tazzine non mi piacevano perché comunque non mi faceva impazzire il fenicottero che avevano utilizzato loro c'erano i trovati